La CGL apre le porte a tutti. Questa la risposta che il sindacato ha voluto dare a tutta Italia e nello specifico al gruppo No Pass dopo i gravi fatti di Roma. La sede della capitale ha subito un violento attacco da parte dei manifestanti contrari all'obbligo di esibire il Green Pass sul posto di lavoro e denunciano i sindacati di non aver protetto i lavoratori. La CGL ha avuto una posizione forte e chiara sulla necessità di vaccinarsi, sul fatto che le vaccinazioni hanno aiutato a limitare il fenomeno della pandemia e quindi a poter riaprire le attività e poter svolgere una vita normale. Il problema è che gli organizzatori di queste manifestazioni non hanno voluto, anzi hanno voluto che ci fosse la violenza. Io penso che tutti i Novax debbano prendere le distanze dagli organizzatori di queste manifestazioni. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti da parte del mondo politico. Solidarietà è arrivata anche dal presidente Marco Marsiglio, il quale ha chiamato personalmente il segretario regionale della CGL Abruzzo Molise. Lo stesso segretario poi chiede ad alcuni politici regionali di prendere le distanze dai protagonisti dell'assalto alla sede della CGL. Ma soprattutto abbiamo avuto tanta solidarietà da parte dei cittadini, iscritti, simpatizzanti e semplici cittadini che vogliono vivere in un paese libero e democratico. Per quanto riguarda le istituzioni abbiamo avuto la solidarietà da parte di molti partiti, delle istituzioni, penso anche al presidente Marsiglio. Però credo che in questa fase sia anche necessario che veramente tutti i politici prendano le distanze da questi movimenti e dagli esponenti di questi movimenti. Mi riferisco al fatto che ci sono alcuni politici anche in Abruzzo che sono stati fotografati e visti insieme a questi personaggi. Dopo quello che è accaduto ancora di più, tutti quanti, tutta la politica debba prendere le distanze. Intanto sabato a Roma ci sarà una manifestazione nazionale antifascista dove tutti i segretari generali di CGL, Cisle e UIL chiedono lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste. Fa capire come c'è una risposta forte della CGL, di tutto il sindacato confederale, anche di tutte le forze politiche che aderiranno a questa manifestazione, ma c'è soprattutto una forza della democrazia che viene dai cittadini iscritti alla CGL, ma come dicevo prima anche simpatizzanti e cittadini che vogliono uno stato libero e democratico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.